E' chiaro che anche se quelli che sostituiranno Messi vorranno far vedere tutta la loro qualità, Messi è un calciatore differente. Perché Messi è uno di quelli che quando pensi di aver visto tutto nel calcio arriva e ti fa vedere cose diverse per cui ti crea poi un po' di confusione. Però rimane ugualmente una squadra di quelle che non rincorre la palla, che sa dove passa e che hanno tutte quelle qualità se gestiscono la partita per trovare le soluzioni contro qualsiasi avversario. Per cui io penso che il problema sia quello lì, non come marcare un calciatore o un altro, ma di gestire di più la palla noi.